Posso dire che però su alcune crisi aziendali in Lombardia io trovo molto seri e preparati i rappresentanti della FIOM CGL e il nemico e il problema oggi non è la FIOM ma è Renzi, il vero pericolo pubblico in Italia si chiama Matteo Renzi che sta sterminando quello che c'è. Su un aspetto non sono d'accordo con Mirco Rota, se non ci fossero ancora a resistere migliaia e migliaia di imprenditori che si fanno il fegato marcio non ci sarebbe più niente da queste parti perché continuare a fare impresa in Italia in queste condizioni è una roba da matti e quindi è per questo che noi presenteremo, a differenza di Berlusconi però noi lo presenteremo con i numeri che stanno in piedi perché Berlusconi va al TG5, noi sabato 13 presenteremo a Milano la nostra proposta di rivoluzione fiscale con un'aliquota fissa al 15%, la nostra scommessa è che rilancia l'Italia, perché l'imprenditore non è Bombassei o Marchionne o Montezemolo, quella è un'altra roba, quelli sono gli amici che vanno a cena con Renzi e non mi interessano quelli che vanno a cena con Renzi. Fatta salva la libertà per tutti di cenare con chi vogliono, però io penso all'imprenditore valtellinese con cui ho cenato ieri sera che eroicamente resiste, mi fa io non ho mai avuto cause di lavoro in 30 anni e vende macchine in tutta la Lombardia, ho aperto una concessionaria a Modena, tre cause in sei mesi, con uno che taroccava i contachilometri, è finita che per non avere rotture di balle col sindacato e col giudice che mi dava torto, gli ho dovuto dare 50 mila euro, pari e patta, questo è il livello in cui si trovano a sopravvivere e a nuotare la stragrande maggioranza degli imprenditori normali. Sull'islam, non è tutto bianco, tutto nero, sono d'accordo con Magdi, mi preoccupano molti aspetti di questa cultura, non dico religione, di questa cultura perché per me uno può professare la fede che preferisce, non è quello un problema, non è tutto così, voglio anche provare a immaginare che non sia tutto così, però noi non dobbiamo transigere, nel senso che quando arrivano in Italia richieste di un certo tipo, quando a Sesto San Giovanni le donne islamiche vogliono la piscina riservata solo a loro per un'ora e quando a Padova ci sono degli immigrati islamici che si rifiutano di farsi curare da medici donna, a casa calci in culo, perché non esiste, esiste, quello è un cedimento, quello è un cedimento, quella non è religione, se ti arriva il medico donna ti arriva il medico donna, se vuoi andare a fare il tuffo in piscina lo fai con i bambini, con i maschi, con le femmine, con chi nuota in piscina, quindi io voglio provare a pensare che l'islam stia maturando, però patti chiari e amicizia lunga, anzi lunghissima, Tosi, ma io ho un rapporto personale buono, in politica però non contano solo i rapporti personali, contano i progetti politici, io penso che la Lega stia crescendo così tanto che c'è posto per tutti quelli che hanno voglia di lavorare e di faticare, basta che sulle idee di fondo si vada d'accordo. Io sono aperto, dialogante e disponibile con tutti, però se chiedo coerenza a Forza Italia è chiaro che la coerenza ce la devo avere anche in casa mia, poi il bello della Lega è che in sezione si può discutere quanto si vuole, in segreteria provinciale si può discutere quanto si vuole, in segreteria nazionale ci può scornare e poi si esce con una linea condivisa, preferibilmente non litigando su Facebook o sui giornali, perché quelli che litigano su Facebook o sui giornali non servono assolutamente niente a nessuno. Ad esempio sul tema dell'euro la vediamo in maniera diversa e lì bisogna arrivarne a una, perché secondo me l'euro è una moneta morta che porta morte, fame e disoccupazione e quindi non c'è l'ipotesi A o l'ipotesi B, o è così o è cos'ha, non c'è la via di mezzo, non c'è il forse euro, c'è o l'euro sì o l'euro no, c'è l'alfano sì, l'alfano no, non c'è l'alfano forse, quindi per tradurre in termini, però ripeto stiamo vivendo un periodo e chiudo, noi ci siamo trovati, la penultima volta che ci troviamo qua era un momento drammatico per la Lega, era un momento devastante per la Lega, quando non si sapeva se ci saremmo stati il mese dopo o se non ci saremmo stati il mese dopo. Devo dire che è un orgoglio essere qua con voi, perché adesso dicono l'effetto Salvini, no, è minimo, perché Salvini potrebbe essere un genio ma non lo è, ma se non avesse dietro una squadra e un progetto non andrebbe da nessuna parte. E quindi essere qua dopo un anno a dettare l'agenda politica e a costringere Berlusconi a andare sul Tg5 a ripetere le cose che diciamo noi, io non sono geloso, io non sono geloso, quindi basta che non si metta anche lui a petto nudo su oggi perché sennò fanno il confronto e poi non sono geloso. Detto questo io ringrazio Roberto, ringrazio Mirko, ringrazio Khalid, ringrazio Magdi, perché a me piace la gente che ci mette la faccia con le sue idee. Ecco, quello che mi sta infastidendo in queste settimane è che io non pretendo di aver ragione, però sicuramente le idee della Lega hanno un peso, sono fondate anche scientificamente, non è che siamo tuttologi, quindi ci stanno dando una mano avvocati, commercialisti, imprenditori, artigiani, agricoltori. A me piacebbe fare su un palco come questo un confronto con Re, con Sua Maestà, con l'Onnipotente, con l'Infallibile, col Bellissimo e chissà mai se ci riusciremo. Se andiamo avanti lavorando con passione, con fatica e con fiducia, con orgoglio e con umiltà, non poniamoci nessun limite. Io domani sera alle 10 e rotti prendo l'aereo, vado e torno in giornata a Mosca per non apprendere le valigie. Sono tornato a casa con le matrioska, non con i rubli e con la vodka, però quella veramente è una battaglia di civiltà in cui credo. Quella è l'Europa che mi piace, l'Europa che lavora, che dialoga, ma che non transige da alcuni principi, perché i principi sono importanti anche oltre l'economia. Quindi penso e spero di portare a Mosca il vostro saluto. Come cambiano i tempi? Una volta a Mosca ci andava gente che oggi fa il Presidente a Repubblica e tornava a casa bello fornito e bello sostenuto. Oggi noi ci andiamo perché penso che la pace sia il valore numero uno e quindi mi sembra idiota mettere dei carri armati e dei missili ai confini con la Russia. Con la Russia si dialoga, non si scherza e non si gioca la guerra. Grazie a tutti, viva Bergamo, che è la provincia... Anzi, domani alle due e mezza vado per mezz'ora ospite della Lucia annunziata su Rai 3, però... avrei detto... avrei detto mi metto la felpa Bergamo, però c'è un vostro conterraneo che dice che ogni tanto mi devo mettere anche la camicia, che è il grandissimo Vittorio Feltri, quindi penserò stanotte se mettermi la camicia, se andarci torso nudo, se mettermi la felpa. Grazie a tutti, siete stati fantastici.